Saranno i Golden State Warriors dell'Istituto Generale Baldassare di Trani a partecipare alla finalissima della Junior NBA FIP League, il torneo di pallacanestro giovanile organizzato da FIP e National Basketball Association. Il risponso è arrivato dal Pala Balestrazi di Bari dove i ragazzi tranesi hanno vinto il concentramento finale del campionato pugliese superando per 12-5 i Brooklyn Nets dell'Istituto Santo Mauro Montello di Bari. Un successo netto, quello dei Golden State Warriors che in semifinale avevano superato i Sacramento Kings ragazzi del loro stesso istituto tranese per 18-9. Più equilibrato invece l'altro incrocio fra Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks con i primi vincitori sui secondi per 12-8. Prima della finale spazio alla gara dei tiri liberi vinta da Fabrizio Fornarelli dei Milwaukee Bucks. Una mattinata di festa al di là dei risultati per i partecipanti delle quattro squadre accolti con una presentazione all'americana. Alla fine coppa per i vincitori e gadget per tutti oltre al saluto del presidente Margaret Gonella che ha seguito l'intera fase finale del torneo. Già allo studio una replica del torneo in puro stile NBA nella prossima stagione da allargare a tutte le province pugliesi dopo il fortunato esperimento di Bari, unico nel sud Italia, che ha coinvolto complessivamente circa 300 studenti e studentesse dagli 11 ai 13 anni di nuove scuole secondarie di primo grado del capoluogo e della provincia Bat. Il meglio dell'edizione 2018 intanto deve ancora venire. Martedì prossimo i Golden State Warriors di Trani affronteranno nella capitale le vincitrici dei campionati di Roma e Ancona per il titolo nazionale della Junior NBA Fit League ed in palio, proprio come nella NBA dei campionissimi, ci sarà l'anello che simboleggia la vittoria oltre ai sogni di tutti i giovanissimi cestisti partecipanti.